Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto, totale, totalitario disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, cari signori, cari signori, la mia faccia particolarmente soddisfatta e il mio ghigno perfido sicuramente vi renderanno l'idea che stiamo per parlare qualcosa di estremamente divertente. Allora, 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 io sono stato accusato più di una volta di antipatriottismo perché parlo male degli equipaggiamenti italiani, perché critico certe cose delle nostre forze armate, perché penso che oggettivamente la partecipazione delle nostre forze armate alla seconda guerra mondiale sia stata fallimata e che l'industria italiana abbia prodotto, insomma, non sia stata all'altezza della bisogna che la produzione industriale italiana sia stata oggettivamente scadente, mediocre, scarsa come quantità e non sempre di buona qualità. E più volte con questo libro ne abbiamo parlato, ok? Ma non parliamo di carri armati italiani questa volta, andiamo, andiamo a fare le pulci agli inglesi perché, come ho già detto in un altro video, se Atene piange, Sparta ha decisamente poco da ridere, cari signori, perché quest'oggi parliamo di uno dei più, come dire, clamorosi fallimenti dell'industria britannica, della produzione carri armati britannici. Parliamo per la precisione di questo, eccolo qua, in tutto il suo dubbio splendore, il Chrysler Tank Mark V o tipo 5 Covenanter, molto probabilmente uno dei più, uno dei peggiori, dei più disgraziati, dei più ignobili, dei più, dei più, dei più, dei più, dei più clamorosi fallimenti industriali in ambito di carri armati che la storia dei carri armati abbia mai visto. Che cos'era questo, questo Chrysler, che cos'era il Chrysler Tank Mark V o tipo 5 Covenanter? Era essenzialmente uno dei cosiddetti carri incrociatori. Eccone un'altra foto. Come vedete si trattava di un mezzo dall'aspetto grintoso e moderno, sicuramente più moderno rispetto ai nostri carri M, ma mai come in questo caso l'abito non fa il monaco e soprattutto l'apparenza inganna e inganna veramente, veramente, veramente tanto. Perché questo carro armato che era nato essenzialmente per soddisfare alcune richieste. Cioè, come vedete, ripeto, vi faccio vedere la foto, era nato per soddisfare le richieste di un moderno carri incrociatore dalla sagoma bassa che forse poco visibile, insomma, e facilmente mimetizzabile, ok? Ma, ma i risultati furono a dir poco disastrosi. Perché? Perché? Allora, innanzitutto fu progettato questo carro, il Covenanter, fu progettato dalla LMS Nuffield, quelli che producevano il motore Liberty L12, e ne abbiamo già parlato facendoci quattro risate. E fu costruito dalla LMS, dalla English Electric e dalla Leland Motors in 1771 esemplari. Era piuttosto piccolo perché era lungo circa 6 metri, alto poco più di 2 metri e 20, pesava 19 tonnellate ed era largo 2 metri e 77. Aveva un motore Midos Flat a 12 cilindri, 340 cavalli con sospensioni di tipo Christie e raggiungeva una velocità di 48 km orari con un'autonomia di 160 km orari. Era armato con il classico 40 mm, il QF Two Pounder, il due libre, il classico due libre da 40 mm che armava già il Matilda. Un buon pezzo, ma, un buon pezzo d'artiglieria anticarro, ma che, ahimè, aveva soltanto proiettili perforanti e non proiettili esplosivi. E questo ne causava enormi, causava enormi problemi quando si trattava dell'appoggio alla fanteria. Allora, allora, allora. Praticamente il Covenanter fu richiesto, insomma, il Covenanter nacque da una richiesta del Ministero della Difesa inglese del 1938. La London Midland and Scottish Railway Company, ovvero sia LMS, iniziò il progetto dello scafo, mentre la progettazione della torretta fu sviluppata dalla Nuffield. La Nuffield! Oddio mio, signori, lasciamo stare. Mentre alla ditta Henry Meadows fu affidata la progettazione del motore. Viva Dio! Grazie al cielo! Però aspettate. Allora, quando a Dunkirk ci furono le disastrose perdite, insomma, praticamente a Dunkirk l'esercito inglese perse praticamente quasi tutto il materiale pesante, disponibili, carri armati, camion, eccetera, furono abbandonati a Dunkirk. E il 17 aprile 1940, in preda alla disperazione, si può dire, l'esercito inglese ne ordinò 100 unità prima ancora che il primo prototipo fosse testato e prodotto allora. Ci fu un enorme sforzo produttivo, il primo ordine venne evaso e un susseguirsi di altri ordini portò ad una produzione complessiva di 1771, carri Mark V, Mark V. Allora, la Nuffield continuò in parallelo la progettazione e la produzione di un altro carro, il Crusader, del quale magari parlerò in seguito e che ebbe sicuramente miglior fortuna. Allora, l'impegno con il Covenanter era quello di creare un carro dal profilo basso e sfuggente di altezza contenuta che fornisse meno bersaglio possibile ai Panzer tedeschi. Ma questa sistemazione così bassa, così compatta, comportò nel Chrysler Mark V, nel Chrysler Mark V, alcuni problemi di raffreddamento. E che cosa accade? Il motore fu montato orizzontalmente e lo spazio nel vano motore per accogliere i radiatori non era sufficiente. Cioè, in pratica sì, abbiamo fatto un carro basso, un carro dall'aspetto moderno, un carro che offre meno bersaglio possibile ai tedeschi, ma l'idea, tutt'altro che peregrina, di offrire meno bersaglio possibile ai tedeschi si rivelò fallimentare perché compattando la cellula del carro entro certe dimensioni non c'era spazio, cioè praticamente dovessero mettere il motore orizzontale e non c'era praticamente spazio per sistemare i radiatori. Insomma, che vi devo dire? Che vi devo dire? Di conseguenza, i radiatori furono spostati nella parte anteriore del velivo, cioè, i radiatori che non potevano essere sistemati nella parte posteriore nel vano motore perché non c'era fisicamente spazio, furono spostati nella parte anteriore. Vi rendete conto? Mettere nella parte anteriore di un carro armato i radiatori! Cioè, con tutto l'impegno possibile e immaginabile, nemmeno noi italiani, che non eravamo certamente delle cime in fatto di progettazioni di carro armato, saremmo mai riusciti a fare qualche cosa di più demenziale. Cioè, ripeto, vi rifaccio vedere il motore, cioè, il... Ecco, vi lo rifaccio vedere. Cioè, praticamente, i radiatori erano nella parte anteriore del mezzo. Cioè, ci rendiamo conto cosa vuol dire sistemare i radiatori nella parte anteriore di un carro armato? Bisogna essere deficienti! O inglesi. Ma, vabbè, non mi fate essere troppo, troppo, come dire, troppo cattivo, perché... Vabbè, lasciamo stare... Insomma, lasciamo stare. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Allora, praticamente, questa sistemazione dei radiatori nella parte anteriore del carro creò enormi problemi di affidabilità, dovuti anche a dei collaudi estremamente superficiali. Allora, a seguito di questi problemi, il Covenanter non poté essere impiegato anche nella campagna d'Africa e per fortuna perché, come dire, alla fine del 1943 il Covenanter, come dire, obsoleti, poco armati e assolutamente inutilizzabili a livello operativo, furono considerati obsoleti, rottamati, almeno recuperarono l'acciaio e i motori, e utilizzati, oppure utilizzati a fini di addestramento. In pratica il Covenanter non fu mai, a parte pochissimi veicoli di prova, i Covenanter non furono mai utilizzati al di fuori delle isole britanniche. A parte, sembra che cinque o sei Covenanter siano stati inviati in Africa, ma, come dire, non c'era niente da fare. Nonostante tutti gli sforzi, si rivelò sempre un carro fragile, un carro inefficace, un carro praticamente pressoché inutilizzabile. Cioè, rendiamoci conto, la caratteristica più sinistra, cioè la... insomma, scusate, la caratteristica più sinistra del Covenanter era che aveva un cambio sistemato talmente tanto male che per inserire la retromarcia il pilota doveva fare una manovra che durava dai 15 ai 20 minuti dovendo inserire la retromarcia letteralmente a martellate. Eh, eh sì, a fianco del, insomma, a fianco del posto del posto di pilotaggio del Covenanter c'era una bella staffa dove era appeso un simpatico mazzuolo, un simpatico martellone, e con questo martello il pilota doveva picchiare sulla leva del cambio per far entrare la retromarcia. Cioè, rendiamoci conto. Perché? Perché, ripeto, per cercare di ottenere... Allora, l'idea di ottenere un carro piccolo, cioè, insomma, l'idea di ottenere un carro piccolo dalla sagoma bassa, e quindi, insomma, l'idea di ottenere un carro piccolo dalla sagoma bassa, quindi poco visibile in combattimento, un carro che, come dire, doveva essere, doveva fare dell'agilità e della velocità le proprie armi e della, e come dire, e della mimetizzazione delle proprie armi, si ritrovò a... cioè, si ritrovò con una sistemazione interna a dir poco delirante. Ecco, vedete qui. Questa era la sistemazione era la sistemazione dei radiatori. I radiatori erano sistemati qua. Questa era la sistemazione dei radiatori del motore. Vi lascio immaginare sotto queste piastre, cioè, vi lascio immaginare cosa poteva succedere in un bel dogfight con i Panzer tedeschi, ammesso e non concesso di riuscire a innestare la retromarza a bestemmie e martellate. Insomma, signori, che vi posso dire? Il Covenanter è indubbiamente uno dei carri più fallimentari della storia. Prodotto in 1771 esemplari perché oggettivamente nel... insomma, fu un errore dettato... la produzione del Covenanter fu un errore dettato dalla disperazione. Dopo Dunkirk la situazione era disastrosa. L'esercito inglese aveva perso tutto l'equipaggiamento. L'esercito inglese metropolitano gli uomini erano stati salvati con l'operazione Dynamo ma camion, carri armati e automobili, motociclette, eccetera, eccetera, fu tutto abbandonato a Dunkirk e in base alla disperazione del momento fu deciso di mettere in costruzione il Covenanter. la disperazione porta a fare errori, la fretta porta a fare errori. L'industria britannica aveva preso negli anni 30 una direzione sbagliata, una direzione filosofica, aveva sviluppato una filosofia operativa sbagliata sviluppando mezzi che andavano ripeto dal pessimo al discreto ok? Ma trovandosi come dire travolti inaspettatamente dalla guerra, trovandosi travolti dalla catastrofe di Dunkirk quando ripeto persero praticamente tutto l'equipaggiamento gli inglesi dovettero dire oddio che facciamo non l'hanno provato però ci servono carri armati con urgenza speriamo che vada bene solo che questa cosa qui perdurò per almeno due anni di troppo e il Covenantir fu prodotto fino al 1942 anche se ripeto non uscì mai dai confini inglesi per fortuna perché ripeto vi immaginate cosa vuol dire nel deserto libico con un carro che si surriscalda perché si surriscaldava con un carro inaffidabile perché le prestazioni oggettivamente anche fuoristrada non erano granché con un carro che nonostante l'aspetto decisamente grintoso e moderno che aveva perché oggettivamente siamo insomma come dire siamo sinceri come si vede dalla foto il Covenantir era un carro che aveva un aspetto moderno un aspetto grintoso e sembrava ripeto sembrava un mezzo interessante ma come ho già detto all'inizio di questo video mai come in questo caso l'abito non fa il monaco mai come in questo caso l'apparenza inganna dai 15 ai 20 minuti per inserire la retromarcia prendendo la leva del cambio a martellate per non parlare poi dei radiatori anteriori vabbè signori signori che vi posso dire se noi italiani abbiamo fatto le nostre belle cazzate infatto di mezzi corazzate beh il Covenantir è insomma ci voleva veramente tanto per progettare qualche cosa di inferiore ai nostri carri M gli inglesi oggettivamente siamo sinceri ci sono riusciti e quando come dire quando ci prendono in giro dicendo ah perché voi con i vostri carri M possiamo sempre dire cari britannici pensate al Covenantir ok vabbè insomma signore e signori il Mark 5 il Chrysertank Mark 5 Covenantir eccolo qua un carro armato come dire nato male sviluppato peggio e che non fu mai 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 in grado di servire a qualche cosa era ripeto progettato e costruito troppo in fretta un carro la cui idea di base non era del tutto peregrina ma che fu sviluppata in maniera a dir poco demenziale tutto qua quindi cari signori che vi posso dire per una volta la perfida albione ha fatto decisamente molto peggio di noi insomma vi immaginate una cosa i nostri carri M contro il Covenantir cioè vabbè signori lasciamo stare lasciamo stare comunque sia cari cari ragazzi io spero che mi perdoniate per avervi proposto queste brutte cose meccaniche ma insomma che vi devo dire quando si tratta di fare quattro risate quando si tratta di fare quattro risate su un argomento su un argomento come la guerra beh insomma siamo sinceri facciamocela una risata che domattina ci possiamo svegliare tutti sotto un cipresso o dentro il cipresso se l'abbiamo presa un po' larga la curva ma vabbè insomma signori torniamo seri questo questo accrocco meccanico questo pessimo accrocco meccanico qua questo questa 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 tristezza di carro armato qua fortunatamente non ha mai visto l'impiego operativo i nostri carri MC eh eh vabbè che vi devo dire signori un carro disgraziato un carro un carro nato male un carro nato sull'onda della disperazione un carro che ahimè non fu mai in grado di servire praticamente a niente se non a essere demolito e rottamato per recuperare materiali pregiati tutto qui quindi cari signori come sempre aspetto le vostre considerazioni nei commenti come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre arrivederci al mio prossimo video e preparatevi perché ci sarà veramente da ridere e come sempre cari ragazzi cari amici cari amiche ciao ciao ciao